faccio la prima prova qui è verde se ora avvicino al pc dovrebbe rilevare il campo magnetico e infatti inizia a sfarfallare se lo avvicino al modem ovviamente il campo magnetico aumenta a dismisura perché il modem crea radiazioni magnetiche ora facciamo delle prove la mia maschera di tara sta ferma andiamo a vedere le altre mie maschere la mia calì la mia medusa e adesso andiamo dal mio altare comincia già a sfarfallare la mia sadako più mi avvicino a lady ghost e più parpella tutto le di ghizzune le di nastrino e tutta la mia parete qui non ho nessun oggetto elettronico e dall'altare i miei oggetti antichi e i miei apporti la mia pentasfera andiamo il mio unta non sta bene torniamo dalle mie maschere il ciccia sei un fantasma? guarda che sfarfalla vicino a te stai attento il mio quadro messicano niente qui dove c'è i miei oggettini particolari il mio ischulao niente le mie maschere antiche niente proviamo il corno preso da poco cosa ho schiacciato un quaderno niente e tu? niente dove brillocchia è qua dall'altare in prossimità delle mie maschere di Lady Ghost Lady Sadaku Lady Nastrino Lady Kitsune Lady Sadaku anche Parpella Gnuchirino Gnuchirino tutto il mio altare sul mio altare brilla di tutto e un po' gli altri miei oggetti antichi niente i miei cing la mia moneta giapponese cos'altro posso testare le altre cose ce le ho giù la mia statua antica di Bali no stranamente la statua no e questa candela particolare nemmeno lo scrigno settecentesco nemmeno il mio gnomuatame no e tutto lì nelle mie maschere ma ancora è poca di sera si riscontra di più comunque tanto continuerò i miei esperimenti il mio corno il mio butta la mandibola le cinghiave riproviamo il ciccia sei un fantasmino sei un fantasmino ciccia saranno qua intorno a te andiamo un po' tutto qui verso l'altare e in particolare sull'altare centrale stranamente il monitor non fa radiazioni la tastiera nonostante sia in wireless nemmeno il cellulare neanche riproviamo sul pc ecco che si illumina perché il pc ha delle onde elettromagnetiche riproviamo sul modem il modem è stracolmo di onde elettromagnetiche ovviamente comunque il test funziona perché dalla presa e dal modem sbirlocchia che è un piacere quindi è vero che riprende le onde elettromagnetiche e quindi torniamo dall'altare lady sadako la mia lady sadako ma lei lo sa quanto l'amo via test della soffitta per ora fatto ne faremo ancora più avanti così